ciao ragazzi ultimamente amazon ci sta inondando di novità beh non proprio qualcosa di fisico ma qualcosa che va ad ampliare la potenzialità dei nostri eco quello che di cui vi voglio parlare oggi una funzione che secondo me è molto importante almeno a me capita spesso di essere in casa sto facendo riprodurre un brano in una stanza poi mi sposto in un'altra magari devo evitare un video e vorrei continuare ad ascoltare la musica lì se io gli dico riproduci quella canzone giustamente mi dice attenzione guarda che ce l'hai già bloccata dall'altra parte perché sto già riproducendo un altro eco vi ricordo che se volete sbloccare la funzione di ascoltare più brani su vari dispositivi dovete essere abbonati ad amazon music unlimited vi lascio qui sotto il link se avete voglia di abbonarvi basta cliccare lì sopra e potete tranquillamente fare questa cosa anche perché poi c'è la promozione di tre mesi gratuiti dopodiché potete disdire tranquillamente senza nessun vincolo se non volete disdire volete andare avanti il costo è di 9 euro e 90 9 euro e 99 al mese comunque tornando a quello che è successo adesso il nostro dispositivo ci dirà questa frase quindi noi dovremmo andare di nuovo nell'altra stanza stoppare la riproduzione da quella parte e farla ripartire nella stanza dove dovremmo stare in quel momento non più però perché vi basterà semplicemente dire al vostro assistente nella stanza dove volete continuare ad ascoltare quella canzone il nome del nostro dispositivo e la frase sposta qui la mia musica e avverrà questo io ho in riproduzione nell'altra stanza una canzone ve la faccio sentire veramente per pochissimo perché sennò mi fregano col copyright posta qui la mia musica come avete sentito dalla sala dove stavo riproducendo questa canzone si è spostata su questo dispositivo quindi basta continuare a fare avanti indietro per stop da questa parte play dall'altra poi ricomincia magari era il pezzo che mi serviva da ascoltare proprio in quel minuto dove ho lasciato la stanza vabbè comunque secondo me è una funzione molto utile che va ad ampliare la potenza dei nostri eco il video si conclude qui spero di esservi stato utile se avete domande fatele qui sotto nei commenti vi ricordo che abbiamo un canale telegram tutto tech 1 al quale potete iscrivervi per ricevere sia notizie sulle offerte che ci sono su amazon sia i video che andiamo a pubblicare sia ogni tanto qualche foto qualche retroscena carino che ogni tanto andiamo a pubblicare detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao